Le richieste urgenti che noi avanziamo alla Regione Calabria sono le richieste di mettere in mano subito delle attività legislative per alcuni provvedimenti che sono in scadenza. Noi abbiamo in scadenza il 31 dicembre di quest'anno il piano casa regionale. Chiediamo che la Regione a primo consiglio regionale utile dia una proroga a questo provvedimento. È un provvedimento che le altre regioni italiane hanno già legiferato in questo senso. Abbiamo poi l'urgenza di prorogare anche la scadenza dei piani strutturali comunali che sono in scadenza il 31 di gennaio 2015 in tutti i comuni. Questa è una cosa che è urgente che il futuro governo regionale metta mano in modo rapido a questa cosa. Un'altra cosa che chiediamo al futuro governo della Regione Calabria è che si metta mano a tutta una serie di opere incompiute che ci sono sul territorio calabrese e che sono incompiute per carenza di finanziamenti. Si potrebbero utilizzare questi finanziamenti, i finanziamenti del Polo che sono in questo momento a rischio di disimpegno. Entro il 31, entro il 30 giugno 2015 addirittura si dovrebbero spendere un miliardo di euro. Basterebbe dirottare una parte di questi finanziamenti e l'economia calabrese potrebbe ripartire e i cittadini potrebbero usufruire di tutte queste opere incompiute che sono in questo momento dei costi, soltanto sono stati solo dei costi.